Amen. Potete sedervi. Abbiamo già sentito che la presenza di Dio è in mezzo a noi. Ed è già stata letta la giusta parola. Il nostro Signore non ritarda. Egli verrà. Egli non verrà in ritardo. E noi non pensiamo di tirarci indietro, ma di camminare avanti insieme con il nostro Signore. Accada quel che accada. Il fratello Rus del continuo legge con gioia che Paolo e Sila persino in prigione cantavano degli inni, lodando Dio. Sotto ogni circostanza, qualsiasi cosa possa avvenire, noi vogliamo lodare il Signore e ringraziarlo per il grande privilegio che noi abbiamo in questo tempo di essere radunati nel Suo nome e nella Sua presenza. E questo con il giusto atteggiamento. Si deve venire con il giusto atteggiamento, ascoltando il Signore. E questo giusto atteggiamento mancava ai farisei e agli iscrivi. Tutti coloro che pensavano di conoscere Dio e di predicare la parola di Dio. Come è stato allora, così è oggi. Tutti conoscono le cose in modo migliore. Tuttavia ci sono persone sulla Terra che rimangono in silenzio nella presenza del Signore. Nel giusto atteggiamento come Maria che stava seduta ai piedi del nostro Signore ascoltando la parola e poi meditandola nel Suo cuore. In merito a quello che abbiamo esaminato la sera scorsa noi siamo ancora sopraffatti e le chiamate al telefono questa mattina di buon'ora sono continuate ad arrivare. E' proprio così meraviglioso, è ancora meraviglioso ciò che la parola di Dio ha compiuto fino all'estremità della Terra. C'è stata una telefonata da Johannesburg lo ha notato qui. Dio vuole una Chiesa che sia uno nella parola nella parola e nello Spirito di Dio. non voglio dimenticare di dare il benvenuto a tutti voi specialmente a tutti i nostri amici da tutti i paesi vicini dalla Repubblica Ceca dalla Slovacchia dalla Romania oggi voglio dare il benvenuto ai nostri amici da Oradia, Romania è così meraviglioso come Dio guida ogni cosa non voglio pure dimenticare di salutare il fratello John e il fratello Daniel e il fratello Florin saluta tutti loro proprio tutti coloro che sono uniti con il Signore e con noi noi non ci gonfiamo fratelli e sorelle se dico qui che chi è unito con il Signore è anche unito con noi perché noi siamo uniti con il Signore tramite la parola e lo Spirito e questo amore interiore ci unisce con il Capo ed anche gli uni gli altri poi abbiamo amici qui e fratelli dal Guadalupe per favore fratello alzati affinché ognuno possa vederti il Signore Dio ti benedica possa egli essere con te noi siamo sempre felici quando ascoltiamo come Dio vi benedice poi abbiamo il fratello Didier in mezzo a noi il quale è stato con me a Port-au-Prince Haiti per favore alzati in piedi fratello Didier affinché le persone i miei fratelli e le mie sorelle possano vederti un uomo che Dio usa in modo potente il Signore sia con te e ti benedica poi abbiamo il fratello Tatì in mezzo a noi un uomo che è davvero un buon interprete dov'è il fratello Tatì? sì Dio ti benedica sì possa Dio benedire tutti qui abbiamo ricevuto delle email da Edmonton Canada da Johannesburg proprio come ho detto prima da Nairobi da Città del Capo questa non sono sicuro da dove sia è un'email in riferimento ad Addis Abeba che Dio ha realmente aperto una porta affinché la parola del Signore possa essere portata poi proprio brevemente ora l'annuncio in questa lettera circolare di maggio 2010 qui abbiamo l'annuncio delle riunioni che avranno luogo Dio volendo il giorno di Pentecoste a Berlino il 23 maggio naturalmente saremo di ritorno da Israele domani ci metteremo in volo per Israele con un gruppo di 51 persone e Dio certamente benedirà e benedirà anche voi noi preghiamo per Israele il popolo naturale eletto da Dio poi posso annunciare che il 26 giugno prima di Zurigo ci sarà una riunione a Salisburgo Austria noi vogliamo recuperare il tempo sarà solo un giorno e una sola riunione noi vogliamo servire tutti Dio volendo andremo di nuovo a Parigi e ovunque ce ne sia bisogno ed anche voi il fratello e la sorella Wagner tutti voi che siete qui oggi Dio vi benedica in modo speciale è così bello ed ancora bello che il Signore si chiama i Suoi dalle estreme parti della Terra nelle parti più a sud del Cile Dio ha chiamato Dio ha chiamato fuori non è così prezzo dalla Repubblica dalla Repubblica Ceca da ogni popolo lingua e nazione dall'Italia dall'Austria Svizzera Francia Belgio da ogni parte da questo luogo noi auguriamo a tutti i nostri fratelli e sorelle anche in questo continente iniziando dalla Finlandia fino a Palermo auguriamo a tutti le ricche benedizioni Dio iniziando con la Nuova Zelanda dove il giorno inizia per primo ogni giorno inizia per primo la in Nuova Zelanda e poi il giorno prende il suo corso noi salutiamo tutti in Nuova Zelanda Australia Canada Stati Uniti realmente dappertutto su tutta la Terra possa il Signore Dio avere la sua propria via con ciascuno di noi ieri abbiamo letto le citazioni dalla bocca del fratello Branham ed ancora una volta ho preso degli appunti e ho preso qui ancora tre citazioni in merito alla parola in merito alla parola abbiamo messo la parola al primo posto nessuna spiegazione umana nessuna interpretazione ma solo la parola nell'originale la il fratello Branham ha detto la parola non può essere piazzata in qualche altro posto in secondo luogo la parola non deve essere presa fuori dal contesto terzo la parola non deve essere interpretata privatamente e poi veniamo alle cinque citazioni della sera scorsa deve accadere al suo tempo stabilito deve essere fatto secondo la sua parola deve essere la persona scelta da lui deve essere rivelato al suo profeta il profeta deve essere confermato da dio tramite la parola riassumendo abbiamo qui una veduta completa di ciò che in realtà si tratta voi tutti lo sapete io sono stato insieme con il fratello Branham sette settimane prima dell'apertura dei sette sugelle io ero con lui a me e gli disse che doveva trasferirsi a Tucson a motivo del comando del Signore e là egli avrebbe visto l'attempimento di ciò che gli era stato mostrato in una visione egli mi chiese di predicare al posto suo a Los Angeles alla gente del pieno vangelo non voglio entrare qui nei dettagli ma voglio leggere qualcosa dagli ultimi minuti del settimo sugello giusto per vostra informazione il fratello brana il 24 marzo 1963 aveva predicato il settimo sugello aveva terminato e poi andò a casa e il Signore gli parlò ritorna e registra ciò che ti dirò e in questi ultimi minuti del lunedì del 25 marzo 1963 vi fu questa dichiarazione ho il libro dei sette sugelli in lingua inglese l'ho davanti a me qui è detto a pagina 567 io leggo può darsi che il mio tempo sia giunto e non siamo sulla via di questa importante persona che viene sulla scena può darsi che tramite questo ministero attraverso il quale io ho provato a riportare le persone indietro la parola forse ho posto il fondamento se è così allora io vi lascerò per sempre perché due non saranno sulla scena allo stesso tempo poi a pagina 573 il fratello Brana mi dice io prego che il signore mi aiuti io ho iniziato a diminuire ma il signore apprezzo cura in modo che egli andrà avanti io prego che tuo Dio possa aiutarmi lascia essere sincero signore sincero e onesto quello che tu mi hai affidato di portare il messaggio così lontano come tu mi hai comandato di portarlo e se ora è così lontano che io devo andare via quando arriverò al fiume Giordano e le onde mi copriranno oddio allora saprò che ho fatto ogni cosa che dovevo fare perché tu hai preso la vecchia spada tu mi hai dato questa vecchia spada ed io voglio passarla a colui che è sincero e onesto affinché egli nel nome del signore porti la spada predicando la verità sii con lui o signore poi a pagina 576 pagina 576 anche molto importante per coloro che trasmettono interpretazioni che noi non possiamo sopportare che noi non ne tolleriamo affatto non una sola interpretazione può essere trovata in mezzo a noi solo la parola di Dio ed ancora la parola di Dio e qui il fratello brano dice in chiusura come come nessuno sa quando ritornerà il signore così anche nessuno conoscerà il mistero dei sette tuoni possa ciascuno possa ciascuno che vive nella fantasia che è venuto con delle fantasie con i propri pensieri possa tenere in mente nel mio ufficio c'è una lettera di un fratello che pensa di conoscere il nuovo nome di Dio sono tutti fraintendimenti e perciò siamo veramente riconoscenti a Dio per la sobrietà che egli ci ha dato per grazia che non dobbiamo interpretare nulla ma dobbiamo semplicemente serbare la parola di Dio nel cuore ed averla rivelata dallo Spirito Santo la sera scorsa abbiamo parlato in merito a tutte le catastrofi naturali ne abbiamo menzionate alcune e certamente aumenteranno 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 anche la perplessità e l'ingiustizia prenderà il controllo così è scritto che ci piaccia o no tutto ciò che è scritto accadrà sia per quanto riguarda Israele sia per quanto riguarda le nazioni sia per quanto riguarda la Chiesa qualunque sia la parola di Dio viene rimpiuta in ogni maniera e noi possiamo testimoniare e vederlo tramite la sua grazia e tramite questo possiamo riconoscere realmente senza alcuno scherno possiamo riconoscere che il ritorno di Gesù Cristo è alla porta poiché ecco come il nostro Signore ha detto quando vedrete accadere queste cose allora alzate i vostri capi perché sapete che la vostra redenzione è vicina così posso ognuno posso ognuno che è qui oggi e tutti coloro che ascoltano e chi un giorno ascolterà di nuovo possa ciascuno trovare grazia al cospetto di Dio per riconoscere il tempo per riconoscere il messaggio le parole della Sacra Scrittura ed oggi è realmente sul mio cuore di non dire soltanto avete compreso ciò che il Signore ha detto ieri sera ne abbiamo parlato Matteo capitolo 13 verso 19 Matteo 13 verso 51 avete compreso tutto questo poi siamo andati in Luca 24 dal verso 29 al verso 32 e poi siamo andati fino al verso 51 dove il Signore ha aperto l'intendimento per le scritture fratelli e sorelle il Signore ci ha aperto l'intendimento per tutto quello che gli ha detto per tutto quello che Pietro ha detto che Paolo ha detto che Giacomo ha detto quello che Giovanni ha detto fino a quello che è stato rivelato sull'isola di Patmos ci ha Dio realmente aperto l'intendimento per la scrittura per tutta la scrittura per l'antico e il nuovo testamento nell'armonia divina ha potuto mostrarcelo e rivelarcelo io ho dovuto realmente pensare a ciò quando specialmente i nostri fratelli dal Cile ci hanno raccontato quando il forte terremoto di magnitudo 8,2 ha avuto luogo scuotendo la nazione e gli edifici sono crollati e come loro hanno testimoniato e sperimentato ciò ogni cosa è stata scossa e ogni cosa è stata buttata giù e quello che non poteva essere buttato giù sia in cucina sia nel salone tutto ciò che era mobile è stato smosso e i nostri fratelli hanno testimoniato noi eravamo là l'abbiamo testimoniato l'abbiamo visto e siamo stati preservati dunque questa è una tale testimonianza personale non solo per sentito dire no per grazia testimoniato personalmente mille ne cadranno alla tua destra e diecimila alla tua sinistra ma tu non sarai colpito ma tu non sarai colpito e poi persino un'onda che era alta circa 8 metri e veniva verso i fratelli e le sorelle e l'onda si è divisa un'onda è andata in questa direzione e l'altra onda in un'altra direzione e loro sono stati preservati queste sono testimonianze di come il Dio Onipotente si prende cura poi insieme al fratello di Dio noi abbiamo sperimentato a Porto Pranz la rovine la rovine la macerie la macerie e la casa di Dio non aveva una sola crepa neanche una sola crepa e qui si deve dire che Dio è fedele Dio è fedele poiché Egli non vigila soltanto sulla sua parola ma vigila su coloro che l'hanno ricevuta su coloro che credono la sua parola e che stanno al suo fianco non ha Dio vegliato sugli uomini nella fornace non ha Egli vegliato su Daniele nella fosse dei leoni fratelli e sorelle ancora riguarda questo punto noi abbiamo ascoltato se abbiamo compreso tutto ciò che ha detto il Signore abbiamo iniziato con Genesi capitolo 1 dal verso 26 al verso 28 facciamo l'uomo noi proseguiamo nel capitolo 3 l'uomo è diventato come uno di noi proseguiamo con il capitolo 11 scendiamo e vediamo quel che accade noi non interpretiamo noi andiamo da una scrittura all'altra e sappiamo esattamente a chi il Signore ha parlato e si potrebbe andare attraverso tutto l'Antico Testamento e Dio ha sempre rivelato se stesso in modo meraviglioso lasciate che vi mostri brevemente che egli ha già rivelato se stesso nell'Antico Testamento in vista di Cristo la sua rivelazione nel Nuovo Testamento egli ha rivelato se stesso come la roccia che accompagnava Israele lungo tutto il viaggio egli li accompagnava lungo tutto il viaggio la roccia che Mosè colpì dalla quale uscì l'acqua vi dico ora il passo della scrittura Esodo 17 voglio semplicemente mostrarvi come Dio si è rivelato nel cielo e sulla terra non importa quando e dove i suoi hanno sempre parte in ciò che egli fa nel loro tempo Esodo capitolo 17 verso 6 ecco io starò davanti a te là sulla roccia in Oreb tu percuoterai la roccia ne scaturirà dell'acqua e il popolo verrà Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele e gli fece come il Signore gli aveva ordinato Esodo capitolo 33 Esodo capitolo 33 dal verso 20 disse ancora tu non puoi vedere la mia faccia perché nessun uomo mi può vedere e vivere quindi l'Eterno disse ecco un luogo vicino a me tu starai sulla roccia qui sulla roccia e nel verso successivo nella fenditura della roccia verso 22 e mentre passerà la mia gloria io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle ma la mia faccia non si può vedere nell'antico testamento Dio aveva girato le spalle al suo popolo il popolo sin dal giardino dell'Eden si era allontanato da lui e poi egli si è dovuto allontanare dal suo popolo perché essi non credevano non ubbidivano continuavano a camminare nelle loro vie numeri capitolo 20 numeri capitolo 20 qui abbiamo un altro rapporto di quello che è accaduto in quel tempo nel tempo di Mosè numeri capitolo 20 dal verso 7 in realtà vorrei leggere fino al verso 13 leggo brevemente dal verso 7 poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo prendi il bastone tu e tuo fratello Aaron convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame tutti noi sappiamo ciò che è accaduto Mosè parlò alla roccia Mosè la colpì due volte e poi il fratello Brana ha detto perciò Dio si è aderato con lui poiché in vista di Cristo che è andato soltanto una volta sulla via dal Getsemani al Calvario che non è stato colpito due volte ma una sola volta una volta per tutte egli è stato colpito quello è ciò che abbiamo ascoltato nella parola di introduzione poi Dio nella sua grazia ha risposto ugualmente ora veniamo al nuovo testamento e poi di nuovo indietro nell'antico vale a dire che la roccia era Cristo per favore ascoltate attentamente ora qui abbiamo il collegamento primo corinzi capitolo dieci il collegamento al nostro tempo quello che è accaduto in quel tempo con il popolo di Israele ha un significato per il nostro tempo leggiamo i primi quattro versi in primo corinzi capitolo dieci ora fratelli non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva or quella roccia era Cristo bisogna prendere insieme l'antico e il nuovo testamento e poi abbiamo qui alcune meravigliose affermazioni le prime due non non sono tanto buone perché siamo avvisati ed ammoniti tutti noi abbiamo bisogno di riprensione verso 5 ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque infatti furono abbattuti nel deserto il battesimo nel mare il bere dalla roccia ogni cosa era meravigliosa ma non è stato d'aiuto a nessuno perché essi non lo ricevettero per fede e nell'ubbidienza verso 5 ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque infatti furono abbattuti nel deserto ed ora viene il verso 6 or queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro verso 11 che è molto importante per noi tutti ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammunizione di noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche ora pensate ciò fratelli e sorelle duemila anni fa Paolo condotto dallo spirito santo ha scritto queste cose tutto ciò che accadde allora con Israele accadde quale esempio per noi ed è stato scritto per noi che siamo alla fine dei tempi dunque l'ubbidienza deve essere collegata alla fede e la fede deve essere collegata all'ubbidienza ogni altra cosa non servirà a nulla poi abbiamo in primo pietro l'edificazione spirituale della chiesa primo pietro capitolo due primo pietro capitolo due leggiamo dal verso cinque in merito all'edificazione della chiesa il sacerdozio primo pietro capitolo due dal verso cinque anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a dio per mezzo di gesù cristo edificati sul sacro fondamento della fede di cui paolo scrive ai corinzi io ho posto il fondamento un altro fondamento nessuno può metterlo e in Efesini 2 verso 20 si parla del fondamento edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti e chiunque voglia conoscerlo precisamente ciò che deve accadere ora allora legga in Esdra capitolo 2 verso 68 legga Esdra capitolo 3 verso 2 come il popolo di Dio ritornò dalla cattività per edificare di nuovo l'altare sul fondamento originale e poi anche il tempio sul fondamento originale e come è scritto là che Zorobabele ebbe la sua parte principale con tutti gli altri poi è scritto in Zaccaria 4 le mani di Zorobabele hanno posto il fondamento e hanno posto pure la pietra della vetta l'accordo l'armonia fra l'antico e il nuovo testamento la guida di Dio con il popolo di Israele nell'antico testamento e poi la guida di Dio con la chiesa nel nuovo testamento e ieri abbiamo evidenziato la differenza tutte le denominazioni tutte le chiese si riferiscono alla Sacra Scrittura ma mettono le loro interpretazioni in ciò hanno il loro credo lo so molto bene chiunque va in una denominazione vede un cartello all'entrata noi crediamo e insegniamo e poi vengono elencati tutti i punti di ciò che viene creduto e insegnato se noi dovremmo avere un cartello là allora dovremmo appendere tutta la Bibbia in questo cartello e poi dovremmo sottolineare che tutto quello che crediamo e insegniamo è già in questo libro così non le nostre proprie interpretazioni ma la parola nell'originale rivelata pensiamo a molti punti ora anche Matteo 28 tutti si sono aggrappati a questo fino a questo giorno perché non hanno la rivelazione in merito al nome e il Signore ha detto molto chiaramente battezzateli nel mio nome battezzateli nel nome in cui Dio si è rivelato come Padre Figlio e Spirito Santo come Padre nel Cielo nel suo unigenito Figlio sulla Terra e per mezzo dello Spirito Santo nella Chiesa Dio Dio sopra di noi Dio con noi e Dio in noi così noi ringraziamo il Signore e allo stesso tempo vediamo com'è importante quando il Signore chiese avete compreso tutto questo avete compreso Matteo 16 nella giusta maniera dove il Signore dice io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa l'avete compreso nella giusta maniera ciò che il Signore ha detto ciò che scioglierete sulla Terra sarà sciolto nel cielo e ciò che legate sulla Terra sarà legato nel cielo avete compreso tutte queste cose nella giusta maniera avete ricevuto l'autorità divina di pronunciare nel suo nome la parola centinaia di anni passarono finché fu trovato qualcuno che disse sì sono io io posso sciogliere e posso legare no e ancora no sono tutti i fraintendimenti che sono sorti nel corso dei secoli e sono tutte interpretazioni alterazioni della scrittura alla fine del tempo della grazia Dio ci ha riportati indietro al principio ci ha direttamente condotti indietro alla sua parola per mezzo del suo santo spirito ci conduce in ciò lasciate che si dica molto chiaramente fratelli e sorelle Dio non tollera nella chiesa sposa nessuna cosa strana nessuna strana dottrina che ciascuno faccia ciò che vuole essi non chiederanno a noi né a Dio fino ad ora nessuno ha chiesto a Dio tutti hanno fatto ciò che hanno fatto e continueranno a fare così ma il nostro Signore dice quando avrete fatto le cose che vi comando allora sarete i miei veri discepoli quando fate ciò che vi comando e questo pieno accordo con il cristianesimo originale con quello che Matteo Marco Luca Giovanni hanno scritto e tutti hanno scritto il loro rapporto in merito al nostro Signore e Redentore ed ognuno è complementare all'altro giusto per enfatizzare la parola di ieri sera vale a dire che la chiesa sposa è la parola di Dio in questo tempo la chiesa in cui la parola di Dio viene rivelata nella giusta maniera e vissuta nella giusta maniera lasciate che vi dia due esempi al riguardo nell'antico testamento naturalmente molto tempo prima fu scritto circa 800 anni prima fu scritto una voce grida nel deserto preparate la via al Signore appianate un sentiero era stato scritto ma nel momento in cui il tempo fu compiuto la parola scritta divenne la parola fatta carne il messaggero di Dio stava là in piedi camminava intorno al fiume giordano e battezzava ed egli disse colui che mi ha comandato di battezzare è con me egli ricevette l'incarico e lo esegui prima era la parola scritta ma poi divenne la parola rivelata camminava e ciò accadde nella stessa maniera è stato con il nostro Signore delle 333 promesse dell'antico testamento che annunciavano in anticipo il piano di salvezza naturalmente tutte anche da Genesi 3 verso 15 da 2 Samuele 7 verso 14 io sarò per lui un padre ed egli mi sarà un figlio salmo 2 verso 7 tu sei mio figlio oggi io ti ho generato sì fino ad Isaia capitolo 7 verso 14 una vergine concepirà fino a Michea capitolo 5 tu Betlehem la più piccola fra le città da te uscirà colui che sarà Signore in Israele quando il tempo fu compiuto tutte queste promesse divennero realtà in Gesù Cristo il nostro Signore una cosa è dirlo in teoria la parola fu fatta carne ma è una cosa totalmente diversa vedere la parola farsi carne nell'adempimento di ciò che era stato annunciato nella parola scritta dunque tutto ciò che Dio ha annunciato predetto e promesso nella sua parola diventerà una realtà è già diventato una realtà alla prima venuta di Cristo ed io sono felice che tutte le promesse che erano in collegamento con la prima venuta del nostro Signore hanno trovato letteralmente il loro adempimento fino alla resurrezione fino all'ascensione è tuttora scritto Salmo 16 io non lascerò che il mio santo veda la corruzione ed egli non ha visto la corruzione il terzo giorno egli risuscitò e poteva dire io vivo e voi pure vivete ed ho le chiavi della morte e dell'ades da prima una parola e poi l'adempimento una parola e poi l'adempimento così è stato sin dall'inizio del Nuovo Testamento dovrebbe essere così anche alla fine o sì adempimento di tutto quello che Dio ha detto e predetto nella sua parola ora indirizzato a tutti i fratelli nel messaggio la domanda ora perché perché ci sono così tante direzioni diverse perché perché gli spiriti degli uomini pensano di essere più intelligenti dello spirito di Dio ma è lo spirito di Dio che guida in ogni verità lo spirito dell'uomo conduce fuoristrada ci sono soltanto due fonti una è lo spirito di verità e l'altra è lo spirito d'errore senza riguardo a quante dottrine sono decorate con le affermazioni del fratello Branham io voglio che si predichi da questo libro con quello che è scritto in esso a nessuno è permesso di aggiungere nulla ed a nessuno è permesso di togliere nulla da ciò ed ora la mia domanda come può essere che ci sono fratelli così ciechi loro stessi sono sedotti e seducono altri proprio come altri l'hanno fatto in ogni chiesa e denominazione con la parola scritta così lo fanno tutti quelli che non hanno un incarico divino lo fanno con le affermazioni del fratello Branham e poi un fratello mi ha detto con un po' di presunzione noi abbiamo nove chiese del messaggio nella nostra città noi non ne abbiamo bisogno di nove non ne abbiamo bisogno di tre abbiamo bisogno di una chiesa del Dio vivente il corpo del Signore deve essere unito insieme e mediante uno spirito noi tutti siamo battezzati in un corpo e noi tutti come pietre viventi siamo edificati come casa di Dio nello spirito come nell'Antico Testamento nel tempo di Salomone tutte le pietre furono tagliate e adattate fino al momento in cui furono sistemate nel Tempio e dopo nessun rumore di martello fu sentito non fu sentito più nulla ogni cosa fu sistemata ogni cosa sistemata meravigliosamente ogni pietra in ogni parete in ogni angolo fu sistemata e riflettete un po' tutti questi uomini di Dio che furono chiamati a farlo ad adattare ogni pietra chi lo rivelò loro che genere di dimensioni dovevano avere e ogni cosa si adattava al 100% anche questo il fratello Branham l'ha detto in alcuni sermoni con voce potente egli l'ha enfatizzato che ne è ora noi siamo naturalmente come in una casa dove le pietre sono tagliate il Signore adatta ogni cosa e quando ha luogo l'effusione lo Spirito Santo ogni cosa deve adattarsi ogni cosa deve essere come Dio vuole che sia ed è così che avverrà e questo accade nel nostro tempo perciò fratelli e sorelle una richiesta adesso se il Signore ci parla in questi giorni per favore non continuate con i vostri pensieri non continuate nelle vostre proprie vie nei vostri programmi ma per favore umiliatevi sotto la potente mano di Dio naturalmente noi non ci sottomettiamo a Paolo o a Pietro o a Giovanni noi ci umiliamo sotto la parola di Dio ci umiliamo sotto la potente mano del nostro Dio che ha fatto le promesse che noi crediamo vale a dire che alla fine ogni cosa sarà come al principio e tutti voi lo sapete gli ebrei aspettano di costruire il Tempio sullo stesso fondamento dove stavano il primo e il secondo Tempio e ciò accadrà così certo come scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento come certo che è scritto in Apocalisse 11 misura il Tempio di Dio e quelli che adorano all'interno ma non misurare il cortile esterno perché sarà dato ai gentili per 42 mesi ogni cosa è già stata scritta lasciate che riassumiamo di cosa si tratta la Chiesa sposa deve sperimentare ogni parola ogni promessa personalmente la parola deve farsi carne attraverso di noi deve diventare una realtà e come scritto del nostro Signore in Primo Giovanni capitolo 1 quel che le nostre mani hanno toccato della parola della vita non una teoria ma una realtà ricordate Simeone al quale fu rivelato che non avrebbe visto la morte se prima non avesse visto il Cristo il Messia e quando giunse il tempo l'ottavo giorno egli fu portato nel tempio per essere consacrato la Simeone condotto dallo Spirito Santo lo stesso Spirito Santo che gli rivelò che egli avrebbe visto il Salvatore lo guidò il giorno in cui doveva aver luogo lo condusse nel tempio ed egli prese il nostro caro Signore nelle sue braccia e disse lascia ora che il tuo servitore si diparte in pace perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio prima di quello egli l'ebbe rivelato e poi lo tenne nelle sue mani una realtà lo tenne nelle sue mani come è stato con la risurrezione del nostro Signore lo stesso corpo il corpo naturale che fu messo nella tomba risuscitò con un corpo immortale e il Signore poteva dire toccatemi sono io uno spirito non ha carne un corpo di risurrezione la morte è già stata sommersa nella vittoria Gesù il nostro Signore Redentore il vincitore del Calvario ciò che è sul mio cuore oggi che voglio evidenziare è che noi non vediamo soltanto quello che Dio ha fatto nei giorni di Mosè nei giorni dell'inizio del Nuovo Testamento no i nostri occhi sono aperti e noi con tutto il nostro cuore possiamo vedere e ricevere le promesse per il nostro tempo ed anche quella parola che il Signore avrebbe mandato un profeta come Elia quanto spesso dovrebbe essere detto qui nel tempo di Elia gli uni seguivano i sacerdoti di Astarte e gli altri seguivano chi? i sacerdoti di Baal e tutti andavano per le proprie vie e poi venne l'ora del Monte Carmelo quest'ora deve venire e verrà Dio non mancherà di darci la risposta Dio ci darà la risposta dal cielo come allora e poi tutti sapranno come andranno le cose da quel momento in poi dunque Dio voleva ciò ed egli ha mandato un profeta ed io vi dico nulla era più necessario in questo tempo di confusione chi di noi avrebbe conosciuto la via chi di noi avrebbe riconosciuto il giorno di salvezza del nostro Dio se Dio in questa epoca profetica non avesse mandato un uomo di Dio per condurci nella parola se ora alcuni o molti fraintendono ciò che il fratello Branham ha detto ciò accade perché hanno perduto il rispetto davanti alla parola di Dio accade perché hanno messo da parte la Bibbia ieri sera abbiamo fatto così abbiamo fatto attenzione che tutti i sermoni che il fratello Branham ha predicato sin dal 1962 fossero tradotti in lingua tedesca ed ora sono disponibili per tutti anche in altre lingue ed io vi dico leggeteli leggeteli le istruzioni che Dio ci dà in questi sermoni sono così potenti e principalmente egli include anche la parte personale che non si adatta così tanto a me il mio ministero è totalmente diverso il mio compito è di di predicare tutta la parola e di andare in tutto il mondo per proclamare il consiglio del nostro Dio ma Paolo e il fratello Branham hanno detto realmente alle sorelle qual è il giusto posto e talvolta persino ai fratelli fa male quando egli è così duro con le sorelle non è così fratelli e sorelle talvolta fa male anche a noi l'uomo di va in giudizio con le sorelle quando egli parla dei vestiti dei capelli corti quando egli dice alcune cose all'uomo naturale ciò non piace ma chiunque è nato da Dio sarà riconoscente per sempre che la verità della parola è stata predicata persino nei dettagli naturali e questo è anche scritto in Efesini capitolo 3 Efesini capitolo 3 dove il Signore parla semplicemente al riguardo attraverso Paolo finché giungiamo al capitolo 4 e al capitolo 5 dove Dio ha posto i ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo leggiamo ancora una volta dal capitolo 3 verso 17 e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché radicati e fondati nell'amore radicati e fondati nell'amore nel capitolo 4 dal verso 2 alcuni pensieri e versi con ogni umiltà e mansuetudine con pazienza sopportandovi gli uni gli altri con amore sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace vi è un corpo solo e un solo spirito come pure siete stati chiamati a una sola speranza quella della vostra vocazione v'è un solo Signore una sola fede un solo battesimo un solo Dio e Padre di tutti che è al di sopra di tutti fra tutti e in tutti diciamo amén poi dal verso 11 è lui che ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come evangelisti altri come pastori e dottori perché cosa è scritto nel verso 12 per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo era così prezioso il ministero il ministero promesso del profeta se i diversi ministeri non sono aggiunti alla chiesa affinché nella chiesa possa aver luogo quello che Dio ci ha dato tramite il ministero profetico e ciò deve diventare la nostra preghiera sincera che Dio restauri ogni cosa come era al principio potete dire amén a ciò se dovessi farlo io allora sarei spaventato ma egli l'ha fatto all'inizio ed egli lo fa pure ora alla fine poi nel capitolo 5 capitolo 5 dal verso 21 Efesini capitolo 5 dal verso 21 sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore il marito infatti è capo della moglie come anche Cristo è capo della chiesa lui che è il salvatore del corpo voi tutti lo sapete come le persone ridono in merito a simili scritture ogni cosa che Dio ha dato come istruzioni nella sua parola essi li mettono da parte nei giorni degli apostoli non c'erano donne vescovo non c'erano apostole né profetesse tranne la falsa profetessa nel libro dell'Apocalisse che forviava i servitori di Dio ma non sono state poste da Dio nella chiesa oggi ci sono donne vescovo ed ogni genere di cose che voi potete immaginare pastoresse e così via dov'è l'ordine divino l'ordine divino è stabilito soltanto nella chiesa dei chiamati fuori ordinata da Dio tutti gli altri continueranno nelle loro vie e perciò noi vogliamo ringraziare semplicemente Dio semplicemente ringraziarlo che tutti i fratelli e tutte le sorelle possano sottomettersi alla parola di Dio e che essa diventi una lampada al nostro piede in tutte le nostre vie lasciate che ancora una volta riassumiamo le promesse sono state date tutto ciò che era per la prima venuta di Cristo fin dalla fondazione della chiesa quando è stato adempiuto ciò che Dio aveva pronunciato e promesso tramite il profeta Gioele Pietro lo disse l'ha enfatizzato questo è ciò che Dio aveva promesso tramite il profeta Gioele prima le promesse e dopo l'adempimento ed ora la promessa della chiamata fuori voi popolo mio uscite fuori di Babilonia e non toccate nulla di mondo siate separati ed io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo e poi viene adempiuto ciò che il Signore ha detto io edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non prevarranno su di essa fratelli e sorelle io credo realmente che nessuno di noi ha una resistenza nel cuore ma piuttosto che può aver luogo ciò che è scritto egli volgerà il cuore dei figli ai padri e preparerà al Signore un popolo ben disposto come Giovanni il Battista ha rivolto i cuori dei credenti dell'Antico Testamento a quello che Dio aveva ordinato per i figli del Nuovo Testamento non le teste non i pensieri no ma la fede nei cuori la rivelazione non viene nella testa la rivelazione viene nel cuore che riceve la parola di Dio e che anche la crede e noi possiamo reputarci felici e beati che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio noi lo diciamo a tutto il mondo in ogni nazione ai nostri fratelli alle nostre sorelle credete Dio credete la parola di Dio piazzate il messaggio nella parola e la parola nel messaggio che non ci sia contraddizione soltanto armonia divina dall'inizio alla fine anche questo è un meraviglioso dono di Dio io mi prendo ora il diritto di dire di tutti i fratelli che sono venuti sulla scena 20 anni fa o 10 anni fa o 30 anni fa nessuno era venuto sulla scena 45 anni fa ma posso realmente ringraziare il Signore che io sin dall'inizio con pieno rispetto ho accettato il ministero del fratello Branham senza alcuna resistenza ogni sermone che Egli ha tenuto e siccome ho tradotto i sermoni personalmente conosco ogni dichiarazione ogni cosa che Egli ha detto e se i falsi fratelli non fossero venuti e non avessero tolto certe cose dal contesto allora ogni cosa sarebbe rimasta nell'armonia divina e e in ogni città ci sarebbe stata soltanto una chiesa dei redenti dei santificati nella parola lavati nel sangue dell'agnello e suggellati con lo spirito santo giusto alla fine in chiusura una buona notizia il Signore farà una breccia il Signore farà una breccia non so se il fratello ascolta adesso se è collegato Egli mi ha telefonato ed ha affermato che il Signore gli ha annunciato il giorno in cui avverranno le grandi cose sì finché finché accadranno grandi cose io non ho bisogno di fermarmi su ciò lo so realmente so che siamo proprio davanti a ciò siamo davanti a ciò il Signore Dio farà qualcosa di straordinario io non ho bisogno di conoscere il giorno voglio semplicemente far parte di questo voglio far parte di questo quando Dio manifesterà la sua potenza e la sua gloria fra non molto accadrà il Signore confermerà la sua parola e completerà la sua opera abbiamo compreso abbiamo compreso che Dio fa attraverso noi e con noi la storia della salvezza e che Dio nella sua chiesa ora conferma la sua parola e le sue promesse e che noi abbiamo una parte diretta in ciò che Dio fa proprio ora e proprio alla fine ancora due cose per tutti i nuovi arrivati e con coloro che hanno problemi con il ministero del fratello Brenham tutti voi lo sapete se si usa la parola profeta allora le persone diventano subito nervose ma se Dio dice nella sua parola io vi mando il profeta allora pure io lo posso dire e non soltanto posso allora devo dirlo devo dire ciò che Dio ha detto e guai a me se non lo facessi e questo io l'ho fatto in tutti questi anni e sono veramente riconoscente al Signore Dio per voi cari fratelli e sorelle non notate che torniamo al primo amore che siamo sempre più vicini a Dio e gli uni gli altri e che abbiamo un sacro rispetto davanti alla parola di Dio e realmente per grazia possiamo riconoscere e vedere ogni cosa ora la domanda che mi è stata indirizzata ci sono fratelli e sorelle che vorrebbero essere battezzati abbiamo in mezzo a noi fratelli e sorelle che vorrebbero essere battezzati allora per favore alzatevi in piedi c'è un fratello sì forse egli può aspettare fino alla prossima volta ma si può anche battezzare uno come fece Filippo non è diverso con Dio ogni cosa può avere luogo così come viene se il fratello vuole aspettare forse altri saranno aggiunti chi gli chiede se può decidere ci alziamo in piedi ora per ringraziare Dio insieme se le sorelle hanno un cantico che si adatti che vengano e lo cantino noi ci rallegriamo degli strumenti siamo riconoscenti a Dio per il conduttore del coro riconoscenti per tutti i talenti che possono essere usati per la gloria di Dio riconoscenti per tutti voi tutto il mondo saprà vedrà e udrà che ci sono persone che si radunano essi non guardano alle spese guardano alla parola del Signore hanno un desiderio una brama di sperimentare di aver parte in quello che Dio fa proprio ora possa Egli benedirci e benedire tutti noi per favore cantate Amen Mein per favore wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig eifrig im Wachen und im Flehen bis du erscheinst Herr bis wir dich sehen und dir entgegen gehen der Bräutkamp kommt der Bräutkamp rechtes bedenkt hält seinen Blick zum Ziele gelenkt nicht in das irdsche Treiben versenkt wachet der Herr kommt bald Er wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig sein im Wachen und im Flehen bis du erscheinst Herr bis wir dich sehen und dir entgegen gehen der Bräutkamp kommt ihr wisst es zuvor richtet nach oben Auge und Ohr richtet den Sinn die Herzen empor wachet der Herr kommt bald Herr wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig sein im Wachen und im Flehen bis du erscheinst Herr bis wir dich sehen und dir entgegen gehen der Bräutkamp kommt und wer und verlässt ihm seine treue hält bis zuletzt wird über großes der einst gesetzt wachet der Herr kommt bald Herr wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig sein im Wachen und im Flehen bis bis du erscheinst Herr bis wir dich sehen und dir entgegen gehen der Bräutkamp kommt und holt die Braut die sich auf Erden schon ihm vertraut die auf sein kommen stündlich geschaut wachet der Herr kommt bald Herr wir wollen in Bereitschaft stehen Eifrig sein im Wachen und im Flehen bis du erscheinst Herr bis wir dich sehen und dir entgegen gehen Amen questo è il nostro desiderio Benedetto elodato sia il nostro Signore lasciate che ancora una volta indichi ed annunci che il 23 maggio Dio volendo saremo a Berlino e vorrei che i fratelli distribuissero la lettera circolare perché quando uscirete probabilmente non sarete in grado di prenderla che ciascuno possa prendere la lettera circolare a giugno il sabato prima di Zurigo avremo una riunione a Salisburgo ora pregheremo insieme e come vi dicevo domani Dio volendo partiremo per Israele per circa 12 giorni per me è una benedizione speciale perché posso rallegrarmi che i miei fratelli e le mie sorelle siano benedetti quando ci si trova al Monte Sion sul Monte degli Olivi nel giardino del Getsemani al Calvario quando si è là questi sono momenti così potenti e che ci riempiono di gratitudine ed ognuno deve essere sicuro della sua opinione molti vorrebbero andare ma non possono così ricordatevi di noi e insieme ricorderemo pure il popolo di Israele in Israele ci sono realmente 31 diverse chiese messianiche che non hanno una diretta comunione l'una con l'altra hanno i loro insegnanti e le loro insegnanti e deve essere detto ai giudei con sincerità nel tempo della grazia anche agli ebrei non è permesso di fare ciò che vogliono devono essere piazzati nella chiesa di Gesù Cristo quello che è stato ordinato ai giudei in modo speciale viene secondo Apocalisse 11 soltanto quando i due profeti verranno sulla scena dunque siamo così riconoscenti a Dio per il preciso accesso e la veduta d'insieme del suo divino piano di salvezza portate i saluti con voi e Dio volendo ci vedremo a Berlino o a Salisburgo o a Zurigo e poi Dio volendo il primo fine settimana di giugno ci vedremo qui uniti nell'amore di Dio ricordatevi di me nelle vostre preghiere talvolta mi sento come Giobbe le prove non mancano ma il Signore ha l'ultima parola prima che preghiamo prima che preghiamo chi ne ha i nostri capi perché oggi il fratello di Dio pregherà con noi e da lui vorrei chiedere di battezzare il fratello che vorrebbe essere battezzato parla francese e allora perché dovremmo sforzarci allora naturalmente il fratello di Dio può battezzare non è così e tutti noi andremo alla piscina e ci rallegreremo tuttavia lasciate che prima chi ne ha i nostri capi e lasciatemi chiedere se qualcuno ha dei problemi se qualcuno ha ancora dei problemi a comprendere la parola rivelata la parola promessa possiamo pregare insieme a voi nell'umiltà e nella fede affinché il Signore possa rivelarla a voi e possa darvi intendimento per la scrittura affinché non siate soltanto ascoltatori ma che siate introdotti in ciò avendovi parte se il fratello vuole venire egli può venire chi di voi vorrebbe essere inclusa in questa preghiera finale alzate le vostre mani c'è qualcuno sì ci sono alcuni ci sono alcuni per favore vieni anche tu per il battesimo bene fratello Didier per favore vieni qui sì vorrei pregare ora per voi coloro che hanno nel cuore il desiderio di comprendere Dio nella maniera di piazzare ogni cosa in modo appropriato essendo guidati dallo spirito in ogni verità non essendo insegnati dagli uomini ma insegnati dallo spirito santo così come scritto ora pregheremo e poi chiederemo al fratello Didier di pregare con noi caro signore è sul mio cuore che tutti senza eccezione che ora sono chiamati fuori ricevano rivelazione tramite il tuo santo spirito per mezzo della tua grazia che tu o signore tu stesso possa aprire loro l'intendimento per la scrittura sotto la predicazione della parola affinché ciascuno possa comprendere ogni cosa nella giusta maniera piazzandola correttamente lasciando che loro stessi siano piazzati correttamente possa anche la tua parola di questo fine settimana non ritornare a vuoto ma possa compiere ciò per cui tu l'hai mandata noi ti ringraziamo per aver mandato il tuo profeta ti ringraziamo per ogni cosa che tu hai già fatto benedici il tuo popolo benedici la sposa dell'agnello abbi la tua via con ciascuno di noi benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù alleluia amén fratello Didier vieni per favore e prega con noi nostro Padre Celeste nostro Padre Celeste noi ti siamo talmente riconoscenti per questo giorno ieri e oggi tu ci hai parlato in modo potente e particolare signore tu ci hai inviato la tua santa parola che il tuo nome sia esaltato tu hai aperto il nostro spirito affinché possiamo comprendere ciò che dicono le sacre scritture noi crediamo con tutto il cuore che tu che hai fatte le promesse sei fedele e le porterai a compimento caro signore fa che non siamo soltanto degli uditori ma che la tua santa parola sia messa in pratica nel nostro cuore e nella nostra vita come tu hai promesso signore tu hai cominciato un'opera in noi e la porterai a compimento benedicici signore affinché possiamo essere in armonia in pieno accordo con la tua santa parola rivelata così signore benedici i nostri cuori e le anime nostre custodiscici e fa che rimaniamo fedeli a ciò che tu hai rivelato in quest'ora bene amato signore noi ti raccomandiamo il nostro fratello e la nostra sorella che si sono fatti avanti per il loro battesimo che tu che tu possa benedirli e custodirli nel cammino che hanno intrapreso con te che l'ubbidienza alla tua santa parola sia la nostra parte che tu possa benedirci in tutto quello che facciamo in collegamento alla tua santa parola e che tu possa custodirci per la gloria del tuo nome benedici il tuo popolo benedici il tuo servitore nel nome di Gesù Cristo il nostro salvatore amén dal cantico numero 28 cantiamo l'ultima strofa amén amén egli ci ha benedetti portate con voi speciali saluti a tutti i nostri fratelli e le sorelle in tutta l'Europa dell'este nella Repubblica Ceca nella Slovacchia e specialmente i nostri fratelli dalla Romania possa Dio benedirvi ed essere con voi possa Dio benedire tutti i fratelli e tutte le sorelle da ogni città e nazione la grazia del Signore sia con voi siate incoraggiati il Signore è con noi finché passeremo dal credere al vedere benedetto e lodato sia il suo santo nome la grazia del Signore sia con voi amén grazie a tutti